L'opera Rebuilt, Rinascita, è stata dedicata e donata alla città dell'Aquila dall'ente mossa artigianato artistico di Guardia Grele. Il prototipo dell'opera è stato presentato nel corso di un Consiglio Comunale, nell'ambito delle celebrazioni della perdonanza celestiniana, mese di agosto dello scorso anno. Il Consiglio Comunale ha anche deciso il luogo e una rotonda nel quale l'opera, che avrà dimensioni imponenti, verrà collocata. Rebuilt, Rinascita, è risultato della collaborazione di maestri artigiani del ferro battuto, della pietra, della ceramica. Ciascun maestro ha lavorato in collaborazione con un giovane artigiano proveniente da un altro paese. Nel caso della ceramica, e dunque del maestro Giuseppe Liberati, la collaborazione è stata con un'artista iraniana, Karmel Mahaleki, che è giunta qui in Italia soltanto nel mese di maggio per realizzare la parte decorativa della ceramica, ispirata proprio al tema della ricostruzione dello sviluppo, coerente con la rinascita del capoluogo d'Abruzzo, che ha subito le terribili conseguenze del sisma del 2009. Maestro Liberati, finalmente è potuta arrivare questa artista dall'Iran, non è stato facile, però insomma adesso sta già lavorando. Noi siamo stati in contatto, gli ho spiegato di che progetto si trattava e cosa è successo all'Aquila e lei chiaramente da internet ha studiato tutto quello che è successo e ha fatto questo disegno. Ci vuole descrivere lei quello che ha realizzato? Tutti sanno cosa è accaduto all'Aquila. Lo stesso è accaduto nella città di Akvila, distrutta dal fuoco e dal terremoto. Mi ha colpito il disegno scelto per rappresentare con un simbolo della fioritura la ricostruzione, la rinascita e ho voluto rappresentarlo in questo disegno. Grazie a tutti.